Che consiglio daresti a un giovane che vuole intraprendere, vuole cominciare il tuo mestiere, la tua carriera? Il consiglio che darei è molto personale perché consiglierei di fare quello che ho fatto io, poi magari non è detto che riesca la cosa o che sia quella giusta. Io e Greg abbiamo semplicemente messo in pratica quello che ci divertiva fare, cioè non abbiamo aspettato, non è che siamo stati lì a proporci, a fare i provini, a aspettare che ci chiamassi. Abbiamo creato una cosa, abbiamo creato l'arte dei suoi derivati che era una band di teatro musicale, la definirei teatro canzone forse. Ci siamo messi in gioco, abbiamo cominciato a esibirci localetti più, abbiamo cominciato proprio con localetti anche da 30 posti, anche 10 posti. Poi da lì è nato tutto, la gente ci ha voluto bene, ci ha seguito, è partito un certo passaparola. Quindi diciamo quello che consiglio è non aspettare, cioè muoversi, se non arrivano le cose, create voi delle cose per fare in modo che qualcosa accada. Quindi essere intraprendenti. Sì, ma intraprendenti divertendosi però, cioè facendo solo quello che ti piace fare perché quando fai qualcosa che ti piace fare ovviamente il risultato è il top. Perfetto, grazie Lillo. Grazie, ciao. Grazie.